Sì, dimmi qua il party! Ciao ragazzi! La mia prima macchina aizrariana! Mitsubishi! 2004 a benzina, 180 cavalli, pagata solamente 500 dollari, 350 euro. Ovviamente la guida al contrario, per le parti guida di prese. Non ci capisco un cazzo, però va benissimo, impariamo tutto. Pollo e assicurazione, tutto incluso, 10-200 dollari. Firmi un foglio, riprendi la macchina e vai in contatto! Attenza, ferma!